Don Lorenzo Milani, oltre che un uomo di chiesa, è stato uno dei più importanti educatori italiani, una figura di riferimento per il cattolicesimo socialmente attivo, per il suo impegno civile. Si è battuto a favore dei poveri, per il diritto all'istruzione e all'emancipazione dei contadini e per l'obiezione di coscienza. A 50 anni di distanza dalla sua scomparsa, avvenuta il 26 giugno 1967, sono ancora molti i frutti del suo insegnamento. Un insegnamento che ha avvarcato i confini delle parrocchie di San Donato a Calenzano e di Barbiano a Vicchio e anche quelli del tempo, visto che della sua azione culturale, pedagogica e teologica si discute ancora oggi. Si celebrano quest'anno i 50 anni dalla sua morte e vorrei aggiungere anche che sono gli 80 anni dalla morte di Gramsci e quest'anno è morto un altro grande studioso dell'educazione che è Tullio De Mauro. Quindi io penso che, già come ha fatto il Ministero dell'Università e dell'Istruzione, occorra in questo momento riflettere molto, partendo dalle importanti riflessioni, dalle parole di Don Milani ma anche dei suoi intenti educativi. Papa Francesco ci ha esortato, appunto, pochi giorni fa a riflettere sulla figura di Don Milani e a riflettere sulla sua visione educativa, che dovrebbe essere sempre più attualizzata anche nella scuola di oggi. La Regione Toscana ha deciso di celebrare il cinquantesimo anniversario della morte stanziando 15.000 euro per iniziative culturali a cura dei comuni dove Milani esercitò il suo mandato pastorale, cioè Montespertoli, Calenzano e Vicchio. I comuni avranno a disposizione un contributo in cofinanziamento all'80% di 5.000 euro ciascuno. Le manifestazioni culmineranno sabato 27 maggio con la marcia di Barbiana e il 20 giugno, quando Papa Francesco andrà a pregare sulla tomba di Don Milani nel cimitero di Barbiana. Tra i tanti eventi si segnala Lettera a una professoressa, uno spettacolo firmato Chille della Balanza, che si terrà venerdì 26 maggio al Teatro Giotto di Vicchio. Un tentativo di trasferire in teatro un metodo di lavoro, la scrittura collettiva. Don Lorenzo scrive la Lettera a una professoressa con i ragazzi, lui dice che è un'opera dei ragazzi, di cui lui fa la regia, e noi proviamo a fare questo lavoro in teatro. Abbiamo tre persone, uno sono io, un'altra è Sissi Abbondanza, un'altra è Monica Fabri, che proviamo a fare una scrittura collettiva con gli spettatori sui temi milaniani. Gli spettatori sceglieranno cosa prendere della storia, della vita di Don Milani e poi proveranno all'imparare facendo, cioè Sissi costruirà con loro gli oggetti scenici dei totem, dei simboli del percorso milaniano. Creeremo una sorta di stanza da Barbiana costruendo un grande tavolo di lavoro.